Peter Pan I signori Darling avevano tre figli, Wendy la maggiore, Gianni e Michele e Nana il cane. Una sera, mentre i bimbi dormivano e i genitori erano usciti, la finestra si spalancò ed entrarono Peter Pan e la fata Campanellino. Svegliarono Wendy e la invitarono a seguirle nell'isola che non c'è, perché raccontasse ai bambini smarriti le belle storie che le raccontava la sua mamma. Wendy accettò, purché venissero anche i suoi fratelli. Peter, in cambio, avrebbe insegnato loro a volare. E così partirono. Poco dopo i signori Darling rientrarono e trovarono Nana che abbaiava a piedi fiato e tre lettini vuoti. Appena arrivati sull'isola, i nostri amici videro i bambini smarriti che stavano scappando dai pirati e dal perfido capitano Uncino, che non perdeva occasione per terrorizzarli e perseguitare Peter Pan. Si trovarono poi tutti insieme all'accampamento e dopo aver consumato una cena deliziosa, Peter iniziò a raccontare le sue fantastiche avventure. Raccontò anche la storia di capitano Uncino. Mentre lottavano, un coccogillo gli aveva mangiato una mano e l'orologio, che nella pancia del bestione continuava a fare tic-tac, tic-tac. Un giorno i bambini decisero di giocare a fare la guerra agli indiani. Si sfarpagliarono nella foresta, ma all'improvviso spuntarono i pirati, che li catturarono. Uncino aveva un piano diabolico, voleva attirare Peter in un cianello, usando Wende e i bambini come esca. Prese la bambina e la fece incatenare all'albero maestro, e rinchiuse in una gabbia gli altri prigionieri. Nel frattempo Peter stava schiacciando un pisolino sul ramo di un albero, quando fu avvisato da Campanellino. Peter, muoviti! I bimbi sono in grave pericolo, sono stati catturati da Uncino. I pirati dormivano, mentre Uncino camminava nervosamente in artesa di Peter Pan, che nel frattempo era riuscito a prendere le chiave e a liberare i bambini. Coraggiosamente questi si avventarono contro i pirati, che colti di sorpresa furono sopraffatte. Uncino furioso si avvicinò a Wende per colpirla con la spada, ma Peter gli fece lo sgambetto e cadde in mare. Chi lo aspettava? Il coccodrillo con il suo tic-tac, tic-tac, i bambini felici si abbracciarono e decisero che era ora di tornare a casa.